Per la prima volta, anziché danneggiare gli agenti immobiliari e legiferare in modo da dargli ancora più compiti gravosi e burocratici, per la prima volta un governo crea delle opportunità per una categoria che da sempre è al centro della filiera dell'immobiliare, quindi la possibilità di diventare consulente del credito, la possibilità di essere anche amministratori del condominio, oppure ad esempio la grande opportunità del turismo in generale, visto che gli agenti immobiliari operano nelle locazioni brevi, di gestire tutta una parte relativa al sistema dell'accoglienza che non sia esclusivamente la mera locazione. Quindi un'agenzia immobiliare che avrà molti più servizi da offrire e sarà sempre più utile ai clienti. Fino a dieci anni fa quello che era necessario per un buon agente immobiliare era l'informazione, cioè fare acquisizione, sapere che c'era una casa da vendere, se avevi una buona casa da vendere prima o poi la vendevi. Oggi le notizie e quindi l'acquisizione sono online, si possono reperire dappertutto, non è più un segreto sapere che, essere a conoscenza del fatto che si vende un appartamento in una via piuttosto che un'altra. Quello che interessa oggi il cliente è la tutela, la garanzia, il servizio, la velocità, cioè il cliente ha bisogno di un professionista che lo faccia sentire tranquillo, che lo metta al centro, che gli doni tutta la propria professionalità. Diciamo che per la prima volta si uniscono in un osservatorio parlamentare, quindi un'associazione di parlamentari, anche i presidenti di quattro associazioni. E quindi un rapporto stretto tra politica e mondo dell'associazionismo. Molte volte il mondo dell'associazionismo, quasi sempre, è diviso, ci sono richieste che arrivano da più parti, i politici non sono onniscenti, quindi non comprendono qual è l'offerta o la richiesta migliore per il mercato. Qui troviamo un punto di aggregazione per l'immobiliare tra politica e associazionismo e questo penso sia già un nuovo modo di fare politica. Se poi le richieste sono condivise, allora forse riusciamo a ottenere veramente in questo osservatorio qualcosa di molto importante. Tutte le associazioni negli ultimi 30 anni, 40 anni di storia politica cercano la legge di stabilità di avere un emendamento e i politici concedono gli emendamenti a chi è più numeroso, a chi gli fa più comodo. Qui si ribalta la necessità o l'uso comune di non fare regali e prebende, ma di guardare l'immobiliare per i prossimi 20 anni e di fare azioni comuni che servono al mercato, ai cittadini e alla comunità.